oooo ma c'è l'intelligenza oh no no, 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 no... no, 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 no a parte che sta è veloce, ma me va? la parte che mi ha bloccato, qui? no, ma, mi tocca qui perché lui è tutto... e quindi... perché lui... la prima parte andava bene ma non puoi fare due parti in intro blocca, blocca lo dedo, diciamo a parte no, per favore dimmi, rifalla tu rifalla tu, se la devo no, no, ma voglio rivedere il fatto della mano, che questo non me lo ascolto un peccato ma è arrivata da capo ragazzi, quando hai fatto il spagno? andavo, finiscila però può, non trattare il microfono no, ma trattare il tempo, questo vuol direttare il tutto e partire di figo e partire di figo grazie